Ok Elena, stiamo registrando, io ti ringrazio per essere qui. Senti, io volevo sapere un po' più di te, vorrei capire un po' meglio da dove nasce questa passione per la scrittura, ho visto anche il sito che mi hai mandato e sono andata a spulciare un po' i racconti che scrivi e insomma sono curiosa di capire meglio perché lo fai. Ah, allora la storia parte da lontano nel senso che io alle superiori, insomma non ho mai amato scrivere né alle medie, alle superiori, piuttosto che fare un tema mi sarei anche mangiata la bile e quindi se potevo evitare di scrivere temi in italiano l'avrei fatto. Perché ho sempre odiato che qualcuno mi mettesse in mano, mi mettesse alla prova in questo modo, cioè scrivi quello che pensi, anche no, solo che poi negli anni, a fine anni 90 quando è arrivato internet, la scrittura ha iniziato a diventare comunicazione. Lì o scrivi o scrivi, adesso ci sono le chat vocali eccetera, però a fine anni 90 era così, o scrivi o scrivi, quindi... E allora quando comunichi ti tocca, ti tocca imparare. Io ho sempre amato scrivere storie, fiabe, racconti, anche se non amavo scrivere di me, però quando si tratta di scrivere altre cose, soprattutto di fantasia, mi è sempre piaciuto fin da piccoletta. Poi alle medie ha iniziato a appassionarmi i gialli, il primo libro è stato Agatha Christie, adesso non mi ricordo quale fosse, non Dieci piccoli indiani era un altro. E poi così mi ha iniziato ad appassionare perché io ho sempre avuto la passione per la biologia, per la medicina eccetera, però la mia disabilità sensoriale dalla nascita non mi consentirebbe di neanche avvicinarmi a questo mondo. Per cui è sempre rimasto, e allora crime, medici legali, cose scientifiche, medicina scientifica. E così il primo, tra virgolette, caso di investigatore che ho dovuto fare io da investigatore è stato l'AIDS, l'AIDS. E' stato il primo caso, tra virgolette, misterioso che dovevo in qualche modo risolvere. Perché? Perché da piccola fino all'elementare mi dicevano è, ma non ti rotolare per terra, non far qui, non far lì. E non capivo perché parlavano di questa cosa che faceva morire un sacco di persone e via dicendo. Poi non mi tornava niente perché tutti i bambini che si ammalavano tornavano a scuola, si rotolavano peggio di prima e si alzavano sempre in piedi. Finché dopo è morto Freddie Mercury, prima persona reale, che io conoscevo la sua musica solo perché era quello che cantava la pubblicità della macchina. Non avevo molto a dieci anni, cosa vuoi che sapessi. E da lì ho iniziato a fare domande che facevo anche prima, però mi rispondevano fino a un certo punto. Quando è morto Freddie, avevo già undici anni e mezzo, e ho iniziato a fare domande, a chiedere cosa voleva dire, eccetera. A farla breve, nel 93, a 13 anni, già sapevo che cosa voleva dire AIDS, che cosa voleva dire prevenzione, che cosa volesse dire evitare l'AIDS ma non evitare le persone. Quindi la differenza tra categorie e comportamenti e via dicendo. Così ho iniziato nel fine 94, inizio 95, a fare attivismo, tra virgolette, perché l'attivismo per me è altra cosa, scrivere per il giornalino della scuola, delle superiori. Fino a che, a scrivere quello che trovavo, insomma all'epoca avevo solo il televideo Rai, per cui ogni volta che trovavo articoli sull'AIDS io facevo. E intanto scrivevo anche raccontini stupidi, sempre con un protagonista, o Freddie Mercury, ma proprio buttati lì, capito? Nel 97 poi faccio un corso con Intercultura, che è quell'associazione internazionale di studenti, che consente di andare all'estero, studiare all'estero, lavorare no. Gli studenti fanno un'esperienza all'estero. Io ho fatto un mese e mezzo, perché l'anno con la mia disabilità era un problema, insomma, a scuola. E lì in questo corso mi hanno letto una storia che sembrava veramente scandalosa, che raccontava dei punti degli americani, insomma, gli Yankee, anagrammato in Kayani, K-Y-A-N-E-E, ed erano, raccontavano dello spazzolino, delle parrucchiere, insomma, con descrizioni che sembravano raccapriccianti. E questo per far riflettere su quello che la cultura delle persone può essere vista da un altro punto di vista. E questo ha iniziato ad affascinarmi, questa storia dei punti di vista, perché poi, dopo, negli anni 2000, ho iniziato a lavorare sull'azienda dove lavoro, che adesso si chiama NTT Data, è un'azienda giapponese, e adesso lavoro come analyst di design inclusivo, insomma. Quindi possiamo dire che tutto è nato grazie, cioè, con Freddie Mercury. Sì, esatto. Ok. Esattamente così. Ok, ok. E quindi sei andata avanti con la scrittura di racconti su questo tema, e da qui io posso capire, ecco, perché il sito che mi ha fatto vedere... Come si chiama il sito, così lo diciamo? Allora, il sito è plusbrothers.net. Ok. E sono dei racconti, ma dillo tu, ho visto che sono dei racconti tutto il tema su Lights. Come nasce la storia dei plusbrothers? Io ho avuto un'esperienza, una relazione, tecnicamente si chiama siero discordante. Cioè, io sono HIV negativa, lui era, è anzi, HIV positivo. Adesso non stiamo più assieme, però è una persona a cui comunque tengo, e a cui sicuramente poi questo video va in mano. Questa esperienza mi ha, oltre ad avermi arricchito, quello che già sapevo comunque, lo stigma verso le persone con HIV è ancora molto forte, anche se la scienza ha fatto passi da gigante. Per esempio, coi farmaci di adesso, una persona che assume una terapia efficace da almeno sei mesi, non è più trasmissibile, non trasmette più l'infezione a livello sessuale. E questa è una cosa molto importante, che viene trattata veramente poco. E non rilevabile. Si chiama non rilevabile non trasmissibile. Carica virale non rilevabile. Ok, immagino che da lì si è nata l'idea di creare questo sito. Sì, da lì, dall'esperienza appunto dello stigma, io e un altro mio amico, quello che mi ha fatto conoscere anche questo, che è, questo qui è un peluche, ed è, sì, perché io faccio lo stesso errore che fanno i vedenti, cioè dire questo e non dire che cos'è, e poi mi arrabbio quando lo fanno gli altri. È la raffigurazione dell'HIV in tridimensionale, di peluche. E' Lara, la mia amica Lara, che deve rimanere qui con me. E questa persona, questo mio amico Alessandro, mi ha ispirato con uno scherzo, dicendomi stai zitta e negativa che non capisci niente, prendendomi giocosamente in giro. E allora abbiamo iniziato a fare questa cosa, e se il mondo fosse al contrario, se a essere la norma, lo standard, è il test HIV positivo, e sono i negativi a discriminare, come la mettiamo? All'inizio l'idea è stata così, ho avuto paura, ho avuto paura perché i racconti mi vengono praticamente spontanei a scriverli, però avevo paura di pubblicarli, perché c'è una sottocultura, prevalentemente gay, che si chiamano bug chaser, e questi qui praticamente, per motivi di accettazione, di omofobia, di ansia, di qualsiasi motivo che loro poi abbiano, che non è comunque compito mio approfondire, queste persone cercano volontariamente di prendersi l'HIV. E ci sono i gifter, gift giver, che poi lo, glielo danno a questi qua. non sono quelli che vanno in giro a dare il virus a inconsapevoli, questi sono consapevoli. Anche se il pericolo maggiore, va detto, sono proprio le persone inconsapevoli, che si credono non a rischio e fanno il giro del mondo, passando il virus in giro, non sapendo di averlo. E questa cosa qui, io sto andando avanti con questi racconti, perché è un modo, sto cercando se non altro, di far riflettere le persone. Qual è l'obiettivo? Io ho letto tanti libri che parlano di questo tema. Quello che mi ha colpito di più è stato uno che si chiama Ci sentiamo casomai, di un'autrice che si chiama Roberta Ciocca, che mi sento in dovere di citare. Praticamente narra la storia di due amiche, di cui una l'HIV, insomma tutti i pregiudizi, eccetera. Io ho preso anche un personaggio, ovviamente con l'autorizzazione di Roberta, che ringrazio, e lo sto sviluppando proprio nella storia dei Plus Brothers, che ovviamente è una storia drama crime, in cui queste persone, in questo mondo girato al contrario, la norma è praticamente avere il virus, per cui chi è negativo viene umiliato in tutti i modi. Insomma hai fatto uno spin-off. Sì, ma neanche no, perché comunque Siria interviene dopo, insomma, è una cosa proprio su questa, perché lei, nel libro di Roberta, lei non ha accettato, cioè più che non averla accettato, vive come se il virus non ci fosse. E allora in quest'altro racconto, lei si integra in questa comunità, per cui capisce che la cosa è normale, che non deve... In questa comunità c'è proprio quello che il coronavirus sta mettendo tutti in condizione di far così. State distanti, non abbracciatevi, il negativo viene praticamente allontanato dal positivo, quando nella vita di tutti i giorni purtroppo succede il contrario. Anche al mio ex fidanzato, all'epoca c'erano tanti, ma come fai, ma come condividete il bagno, sei pazza a bere dalla stessa bottiglia, cose che proprio nelle condizioni, non è mai stato un pericolo in questo senso, ma nelle condizioni di adesso è ancora meno pericoloso. E paradossalmente ci troviamo una malattia ancora più pericolosa adesso. Per cui io dico, le mie storie vogliono far riflettere su questo. Tanti si sentono in diritto di discriminare una persona HIV positiva, ma io ho il diritto di non volerci parlare, di non volerci lavorare assieme, se io lo so ho il diritto anche di rifiutare un'eventuale relazione con lui, eccetera, eccetera. Non è un diritto. La discriminazione non è un diritto. Tanto più, se ha l'idea di sapere, anche un'idea di fantasia, che l'HIV negativo, tuo HIV negativo venga discriminato, ti fa arrabbiare. Qual è il problema? L'empatia. Chiunque sappia, si intenda di letteratura, di scrittura, lo sa, l'autore deve creare empatia, deve portarti per mano, tu lettore, ad avere, a provare le sensazioni del protagonista, o dell'antagonista anche. Per cui, quando tu crei empatia, cerchi sempre di immedesimarti, chiaramente. Però, cosa succede? Nelle storie, quelle, tipo quella di, appunto, che ha raccontato Roberta, oppure altre, è sempre una persona negativa, che scrive, fino a prova contraria, tra parentesi, che scrive, di una persona ammalata, che viene discriminata. Per cui, è comunque un punto di vista letterario, non è un punto di vista vivo. Nel senso, per quanto tu ti puoi immedesimare, ti puoi informare sulle cose, hai sempre il tuo punto di vista, è sempre, rimane comunque sempre il tuo. Mentre, in questo caso, e cosa succede? Tu puoi conoscere, tutte le cause che vuoi, però, l'errore, è sempre dietro l'angolo, perché comunque, tu la situazione, non la vivi. Allora, cosa succede? Io, lettore, che leggo, mi posso immedesimare, e imparare, che non si deve discriminare, che non si deve, trattare male le persone, per motivi X, ma dopo, alla fine, io, lettore, una volta che ho chiuso il libro, non mi resta, molto. Cioè, mi resta, se ho già, una determinata sensibilità. Però, io, che cos'è che ho fatto? Ho fatto il lavoro inverso. Scusami, tu dici, tu dici che il lettore, non si riesce a immedesimare, perché chi scrive, di fatto, non è la persona, che ha l'HIV, e quindi, c'è sempre questo filtro, che in qualche modo, rende un po' distante, poi, la comunicazione col lettore, no? Sì, è un filtro, ma è un filtro, che probabilmente, ci sarebbe comunque, perché anche se a scrivere è uno con l'HIV, tu che sei senza, non avendo l'HIV, non riesci, tutto sommato, a percepire bene, che cosa vuol dire, sulla tua pelle, essere discriminato. Immagini, ma non lo capisci. Chiaro. Ma se ti viene sbattuto in faccia, che quell'altra persona, che tu consideri un diverso, ti dice a te, che sei scarico, che sei un elettrone, che sei una scatola vuota, che sei inutile, che sei da buttare, tu, che lo status negativo ce l'hai, nel sangue, dici, cacchio, ma qui, che cosa sta succedendo? Cioè, almeno una domanda, te la fai. Beh, mi sembra che, per una che non voleva scrivere, i temi a scuola, mi sembra, un passaggio epocale. Complimenti, molto interessante, questo, questo punto di vista. Capisco, quindi, il fatto che, immagino che adesso, tu o chi ha letto questi racconti, abbia trovato delle, delle similitudini, con quello che stiamo vivendo adesso, con il coronavirus, no? Probabile. Probabile. Probabile, non lo so. C'è stato, io, devo dirlo, devo ringraziare molto, le persone che hanno creduto in me, a partire, da un'associazione, una piccola associazione culturale, che si chiama Drama Books, che, con la quale, da uno scherzo, sempre su Facebook, è nato uno sceneggiato, che, poi ho scritto, che, sono andate online, in tre puntate, audio, ma, dobbiamo ancora finire, la registrazione, questo qui è un supereroe, si chiama Bomba Atomica, e combatte, una setta, non spoiler, perché non va bene spoilerare, dopo, certo, i Plus Brothers, sono venuti fuori, anche da alcuni personaggi, di quella cosa lì, ok, però, questa persona qui, il, il, il presidente di questa associazione, Germano Carella, ha creduto in me, mi ha fatto, spiegato, un po', come si scrivono gli sceneggiati, eccetera, mi ha creduta, capace, di fare, semplicemente, mi ha detto, butta giù, a me piace il crime, a te piace il crime, a te piace il lavorare di fantasia, butta giù, e alla fine, da settembre 2018, ad adesso, siamo qua, scusami, dov'è che si possono trovare, online, queste, queste puntate? dramabooks.it ok, perfetto, e senti, tutto questo, ti vorrei far tornare, indietro nel tempo, a, più o meno, questo, questo Natale, o a Gennaio, quando è cominciato, questo percorso con, con noi, di, del, del corso online di scrittura, diciamo, mentre mi parlavi, voi stavo cercando di capire, come tutto questo, come la tua esperienza, c'è cose che poi, a un certo punto, ti ha portato a dire, senti, è il caso, di, di approfondire di più, diciamo, tutti gli argomenti relativi a, come scrivere un romanzo, ci hai parlato delle, diciamo, di come sono nati i tuoi, i tuoi racconti, di questo sito, dove, e questo tema, che hai voluto approcciare, mi incuriosiva di più capire, come tutto questo, diciamo, ha a che fare poi, con le lezioni che stai seguendo. Allora, io, quando ho iniziato a scrivere, questi racconti, l'ho sceneggiato di prima, e ho intenzione anche, di fare anche altro, eccetera, ho iniziato, a pormi delle domande, perché io, non lo so, se è per la mia disabilità, o perché sono una persona, abbastanza sbrigativa, che non ama tanto di fronzoli, non sono brava, nella descrizione, dialoghi, ne scrivo quanti ne vuoi, ma, col narratore, sono abbastanza stringata, quando, magari, potrebbe essere, anche il narratore, dà, un tocco di, ti accompagna, insomma, ti accompagna, nella lettura, di, di quello che leggi, sì, vabbè, insomma, nella lettura, di quello che hai in mano. è la cosa positiva, però, diciamo, meglio essere stringati, che il contrario. Che troppo prolifo. Tutto sommato. Però, appunto, essendo, anche, con una mia, una disabilità visiva, la descrizione fisica, di elementi, barra personaggi, non, non, non riesco a darla. Per cui, io preferisco, addentrarmi più, nel, nel carattere, nel, nelle azioni, negli spostamenti. C'è anche il luogo, il luogo, è un contenitore, dove, si svolge un'azione. E allora, io ho detto, mi, mi manca, mi manca. per poter scrivere, scrivere, sono capaci tutti, di buttare giù, qualcosa su una taschiera, ma per poter scrivere, bisogna avere, delle nozioni, o comunque, cercare di, affrontare, con chi ne sa di più. Ho, ho visto diversi, corsi di scrittura, online, ce ne ho, sono iscritta, sono iscritta, diversi, di fatti, li sto valutando, Però, questo, questo, di concorsiletterari.net, mi è sembrato, quello, intanto, il sito, strutturato meglio, a livello di accessibilità, con meno fronzoli, con meno, questioni, difficoltà, eccetera, con i marcatori, i marcatori giusti, e, poi, soprattutto, lezioni, string, ma non stringate, in senso negativo, cioè, sintetiche, con, tutte le informazioni, soprattutto, accessibili, anche a livello audio, perché, non, non, non c'è quel famoso, le preposizioni, al posto dei nomi, cioè, tipo, quello che, avevo detto, sbagliando prima, mostrando il virus di peluche, avevo detto, io adesso, c'ho in mano questo, cioè, se quello di là, non ti vede, questo, che cos'è? Sai che, da quando me l'ha detto, sto cercando di, sto pensando a tutte le lezioni, che ho fatto, ho paura di, di aver fatto questo errore, molto facile farlo, però, capisco, capisco il problema. Se, casomai, adesso, se ne vedo, che ce l'hanno, casomai lo... Mi chiami, e ti lo dico al telefono. in caso, o basta scriversi, insomma, basta scrivere le mail, c'è la mail, quindi. Ok. E quindi, io adesso sto cercando, adesso che sono più concentrata, di prendere tutte le lezioni, ripassarmele tutte con calma, una via l'altra, perché è il corso che mi ha dato più garanzia di, poi anche il fatto di poterlo scaricare in mp3, eccetera, mi ha dato la garanzia di poterne fruire con la calma, con la giusta calma. Ok. E senti, quindi, diciamo, di tutto questo, che cosa ne farai? Cioè, quali sono i tuoi obiettivi? Di che cosa? Prima mi parlavi, mi avevi detto, insomma, che era nato questo nuovo progetto, dove è scritto, praticamente, delle puntate online. Mi incuriosiva capire, una volta finito questo, questo percorso, che comunque non finisce mai, c'è sempre spazio per imparare qualcosa, che cosa farai, cosa stai facendo, che cosa farai nel futuro? Allora, su Giangi Bomba Atomica, non lo so, adesso è da vedere con gli attori, come si mette, con le registrazioni audio, eccetera, perché lì, quando lavori con dei volontari, comunque è sempre difficile avere delle tempistiche, avere comunque le 25 puntate, quando le registreremo, le registreremo, e andranno su, ci sarà una seconda serie, non ci sarà, dipenderà dal successo della prima, questo, non lo so. I Plus Brothers, invece, che questo è un progetto mio, e dell'altro mio amico, di Alessandro Gifter, che Lazzarone, anche lui avrà il video in mano, ecco, questo dei Plus Brothers, invece, per il momento, andrà avanti, con la scrittura, dei racconti, sia i racconti, quelli veri e propri, la serie, sia, la reinterpretazione, delle fiabe, delle favole, in chiave positiva, sicuramente, andremo avanti, perché, finché ci divertiamo, andiamo avanti, perché è una cosa, che facciamo per divertirci, alla fine, dopo, se la riflessione viene, viene, se no, se ho in mente, di fare libri, di fare presentazioni, di fare, certo, il mio sogno, barra ambizione, nel cassetto, molto profondo, sarebbe, che questa diventasse, una serie tv, mi piacerebbe, una serie, però, avendo già, consapevolezza, di quanto è difficile, fare un, tra virgolette, semplice, audiolibro, so che, sarà un sogno, molto, 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 nel cassetto, va bene, tempo al tempo, se c'hai, costanza, Certo, l'idea, di coinvolgere, eventualmente, delle persone, con l'HIV, a fare, a recitare loro, la parte dei personaggi, sarebbe il top dei top, però, non, insomma, queste sono, ambizioni, cioè, proprio fare una cosa, una cosa, proprio di, di, viva, che loro, che loro, si medesimano, nei personaggi, e vivendo la situazione, in prima persona, possono, comunque, dargli, anche a livello vocale, la verve giusta, certo, però, non è, insomma, queste sono cose, a cinque, sei anni, data, boh, va bene Elena, ti ringrazio, per la tua testimonianza, e per il tuo punto di vista, diciamo, non sempre, si va così in profondità, su questo, su questo tipo di temi, e sono contento, insomma, che sia venuto fuori, quindi, grazie a te, e, io metterò i link, tutti i link, di cui abbiamo parlato, in descrizione del video, quindi, magari, speriamo che qualcuno, ovviamente, vada a finire sui tuoi siti, e, niente, ti auguro, casemai, te li rimando, te li rimando, sì, nessun problema, ti auguro il meglio, noi ci sentiamo, cioè, sicuramente, ci teniamo in contatto, tu stai seguendo ancora le lezioni, il master, sta per finire, però, per qualunque dubbio, problema, ovviamente, ci sono, sì, ma, dopo, dopo le posso, le posso rivedere, con calma, sì, rimangono lì, non è che poi, sì, 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 non preoccuparti, eh, perché io sto tenendo tutte le mail, così, me le, me le seguo tutte, una via l'altra, ok, va bene, ok, grazie, grazie, buono, prego, ciao, ciao, ciao,